Nell'anno 2023 il mondo delle conoscenze sentimentali è sempre più consumistico e imprevedibile. Oggi le persone stanno insieme e domani si lasciano per motivi futili. Oggi l'interesse è verso una persona, mentre domani è verso un'altra persona che su Instagram ha mostrato una fetta di corpo in più. Ossia la capacità di tenere fisso l'interesse su una singola persona, ossia la capacità di tenere fisso l'interesse su una singola persona è sempre più rara. Vediamo ora quali sono le problematiche più frequenti. 1. Conoscenze multiple. Ogni persona ha sulla propria lista delle chat whatsapp almeno 4-5 persone con le quali si iscrive ogni giorno. La domanda è la seguente. Come fai a conoscere 4-5 persone contemporaneamente? A fare il tuo lavoro e magari coltivare anche uno sport o una qualche passione. Non c'è tempo a sufficienza. Se vuoi conoscere una persona devi dedicarti stabilmente ad una singola persona. Devi chiamarla, devi sentirla, devi uscirci e devi viverla costantemente per un arco temporale più o meno lungo. Solo così una conoscenza può gradualmente evolvere. Due tradimenti. I tradimenti sono una sorta di epidemia. Non immaginate nemmeno quanti siano e purtroppo sono per la maggior parte di origine maschile. Ci sono tanti uomini che tradiscono la propria compagna. Non tutti ma tanti. Non è neanche un tradimento sentimentale ma è più fisico. Cioè è come se l'uomo avesse naturalmente bisogno di più donne. Credo che questo problema possa essere prevenuto grazie ad una eccellente comunicazione tra i due partner portata avanti giorno dopo giorno. 3-materialismo. Se i tradimenti portano il timbro maschile le richieste di denaro sono di origine femminile. Sono sempre di più le donne che considerano un uomo per quello che materialmente può offrire. E questo problema è iniziato ad emergere da quando si è diffuso Instagram. Cioè è come se la vetrina di ogni donna, ossia il profilo, fosse in competizione con le altre vetrine, gli altri profili. E l'obiettivo non è più quello di avere una vita vera. Bensì è quello di trovare qualcuno che foraggi una vita finta. Quante donne vedete su Instagram che fanno una vita da jetset e non lavorano. Questo è un altro dei problemi delle conoscenze nell'anno 2023. Puoi imparare a conoscere ragazzi in chat ogni singola settimana e ogni singolo giorno? Beh allora questo videocorso fa il caso tuo. Mago del chat. Al suo interno troverai tutta una serie di tecniche che ti aiuteranno a diventare il numero uno all'interno delle varie app di dating. Questo videocorso lo trovi all'interno del nostro store playloveracademy.store Se hai ulteriori domande puoi chiedere informazioni attraverso il numero verde gratuito 894 14 16.